Ora si inizia la partita, inizia da ora, continuiamo in campo ma inizia qui, concentrazione, attenzione! Questo è il bene al passo. Quindi entra in campo e picchia, non aspettare che ti picchino, qui non c'è cazzi ragazzi, le regole sono queste, non ci sono, c'è da picchiare, c'è da entrare e uscire a testa alta. Voi siete i Rimini, state facendo la storia ragazzi, crescerà questo movimento, voi state buttando le basi per far crescere il movimento, per far crescere i Rimini, per far crescere la vostra città, per farla diventare vincente, per andare avanti e vincere su tutta Italia, voi ci avete la possibilità, lo dovete fare. E questo è il primo scalino, il primo passo. Entrate e spaccate tutto. Guardatemi negli occhi. Guardatemi negli occhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.